E sono raddoppiate in Puglia le famiglie in stato di povertà, lo rende noto col diretti sulla base dei dati Istat. Sentite. Secondo gli ultimi dati Istat sull'incidenza della povertà relativa familiare, su scala regionale la Puglia è passata dal 18,1% nel 2020 al 27,5% nel 2021. E' il dato di crescita di povertà relativa più alto d'Italia. A tal proposito, da un'analisi della col diretti Puglia, emerge che in un anno le famiglie in stato di povertà sono raddoppiate da 290.000 a 440.000 a causa del conflitto in Ucraina e il conseguente aumento dei prezzi e dei rincari delle bollette energetiche, a partire dal gas e dalla luce. La col diretti regionale sottolinea che la crisi ha costretto un numero sempre maggiore di persone a chiedere aiuto alle mense dei poveri, usufruendo dei pacchi alimentari, condizionati anche dalle limitazioni rese necessarie dal Covid-19. I nuovi poveri, spiega la col diretti, sono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come anche molti lavoratori a tempo determinato o con attività colpite dalle misure contro la pandemia. Le categorie più deboli in Puglia sono rappresentate anche dagli oltre 30.000 bambini, under 15 anni, che hanno bisogno di essere assistiti e che sono a forte rischio di povertà educativa e di dispersione scolastica, ma anche anziani a basso reddito e uomini e donne over 65 che non riescono a pagarsi un pasto completo o le bollette di consumo domestico. Una nota positiva è caratterizzata dal senso di solidarietà che è cresciuto e si è esteso a partire dalle organizzazioni di volontariato sino a giungere alle imprese e ai singoli cittadini.